Barcellona e Madrid sembrano le locomotive di due convogli impazziti che viaggiano sullo stesso binario ma in direzioni opposte, destinate a scontrarsi. È molto probabile che questo sia solamente l'inizio di una partita che non finirà nemmeno in caso di referendum che sia favorevole all'indipendenza e che sancisca quindi una rottura formale tra il governo centrale spagnolo e quello dell'autonomia catalana. C'è poi anche la possibilità, visto l'approccio repressivo di Madrid, che il referendum non si tenga e a quel punto la Catalogna dichiari unilateralmente l'indipendenza. In ogni caso si tratta di una partita di dimensioni straordinariamente importanti, è in gioco l'esistenza della Spagna perché chiaramente la Spagna senza Catalogna è un'altra cosa e anche la Catalogna senza la Spagna sarebbe un'altra cosa e sarà una partita anche molto importante per il resto dell'Europa che difficilmente potrebbe assorbire con serenità la fine di uno Stato come quello spagnolo.